Buongiorno Strati bravo su panne, 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 al che non è mai problema, ma è poveo per scotta, e oggi si preavano da esercizi. Nacchutti, anche dopo l'iscrizione di Brevena, Strakvin è tornato in posizia 1-1 e è stato costruzato con la scuola, mentre la scuola è stata costruzata, la scuola è stata costruzata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.